Che cazzo vi devo dire? Nel senso, a me, sinceramente, aver visto... intanto, questo episodio non mi aspettavo che avesse questa qualità, ma anche il messaggio che lancia è veramente bello, perché ok che si intuisce dal titolo, fan anime, cioè fan letter, la lettera dei fan, ma è bello che... cioè, è la lettera di un fan, ma è indirizzata a noi, cioè questo episodio è proprio per i fan di One Piece, questa è la cosa bella. E' come se tutti i personaggi che vediamo qua, quelli che ti fanno per Brook, la protagonista che ti fa per Nami, la tizia che ti fa per... i due tipi che ti fanno per Luffy, cioè fanno vedere varie persone, che sarebbero noi, i fan, che ognuno per un motivo diverso ha il suo personaggio preferito, anche i tizi che chiacchierano nella taverna su chi è più forte, più forte Zoro, no, è più forte Sanji, in realtà no, Sanji è un coglione, Zoro è il migliore di tutti, quindi, cioè, sembra in tutto e per tutto un episodio dove è pieno di... di fan di One Piece, che per un motivo o per l'altro amano, adorano, stimano un determinato personaggio, chi perché gli ha salvato la vita, chi perché ne è rimasto ispirato, chi perché gli sembra forte, gli sta simpatico, insomma, tutti questi motivi qua. E la cosa bella è che non solo è un episodio che mostra il punto di vista dei fan, ma, perché ci fanno vedere sia le cose che accadono a Sabaudi dal punto di vista di tutte queste persone, sia le cose a Marineford dal punto di vista dei due Marine che combattono, quindi, comunque, avere anche questo ulteriore punto di vista è molto figo in queste parti così importanti, tipo a Marineford, ma è ancora più bello che... cioè, ci fanno proprio vedere come i fan aiutano Luffy e la sua sciurma a superare le avversità, ad andare avanti, cioè, quindi è come se l'intero episodio fosse un messaggio, è anche grazie a voi, anche se i personaggi non se ne accorgono, Luffy, Nami e tutti gli altri, è anche grazie a voi, fan, che riescono ad andare avanti. È proprio bello, dai, è proprio bello. È ancora più bello il fatto che non è un episodio a cazzo di cane, cioè, è un episodio che fa vedere delle cose successe nell'anime, da un punto di vista differente, quindi già solo questo è figo, ma che poi si ricollega perfettamente con la scena dopo, con la parte dopo, cioè questa pausa di sei mesi che fanno, non è una pausa a cazzo di cane come in tutti gli anime che ci stanno, ma è una pausa fatta in concomitanza con il finale dell'ultimo episodio che ho visto di One Piece di Agued, che si conclude la parte sull'isola dei pirati, con Garp e tutti gli altri. Poi fanno questo episodio per, praticamente, ringraziamento ai fan, quasi come se fosse non una scusa per i sei mesi di pausa, ma... Sì, ci sono sei mesi di pausa, ma nel mentre vi ringraziamo per tutto il supporto che dà dalla serie. E poi, appunto, si ricollegano pure con il remake dell'Isola degli Uomini Pesce, perché appunto hanno annunciato che faranno un remake di tutta l'Isola degli Uomini Pesce, che dovrebbe avere una qualità maggiore, meno episodi e quindi sarà più bella da vedere. Se, regà, se la sono gestita in maniera incredibile, veramente, cioè, quasi, ma non vi dico che sono contento dei sei mesi di pausa, ma sicuramente con un episodio del genere, che poi si ricollega al remake, sono molto più contento che se non ci fosse stato. Cioè, sono riusciti ad addolcire la pillola, la brutta notizia della pausa di sei mesi in maniera eccellente, quindi... Cioè, qua, secondo me, stiamo iniziando a... cioè, stiamo proprio sconfinando a un livello superiore degli anime. Cioè, questa è una cosa... cioè, sono... come possiamo definirle? Stratagemmi, manovre di marketing, cioè... qua, regà, sono proprio next level questi. Altro che episodi da un'ora e mezza, Re Zero che skippa l'opening, skippa l'ending, cioè... Qua stanno proprio... il non plus ultra, quindi... secondo me, veramente, One Piece negli ultimi mesi, da quando è iniziata la saga di Egghead in poi, e con questa cosa, soprattutto, della lettera dei fan, tra l'altro, vabbè, l'episodio, inutile dirlo, ha una qualità della madonna. Ma soprattutto, a livello registico, le sequenze, cioè... gli stacchi che fanno... Gli stacchi che fanno, regà, sono... guardate, tipo questa scena qua. Questa scena qua che si stacca il fucile. Questa, oppure, nel finale... nel finale... questa qua... questa qua è la migliore. Cioè, se vi posso dire, questa qua è la migliore. Senza alcun'ombra di dubbio, questa è... senza senso. Questa è proprio senza senso. Cioè, lei che viene bloccata... e tutto il suo sogno... cioè... non so, il puzzle cosa può stare a significare? L'unione di tutti i sogni, le... speranze, non lo so, insomma, di tutti i fan. Questo è come si fa un episodio. Cioè, questo è come si fa un episodio. Altro che... blue cock, blue png, blue powerpoint, blue... sto cazzo. E... bello, bello, bello. Poi, bello... cioè, tutti... per tutti i fan sono tutti simpatici. Guardate qua. Pure il marine... Che carino. Cioè, chi... è la stessa cosa che diciamo noi. Cioè, nel senso, quanto è carino Chopper. Quindi... è... troppo... relatable. Cioè, troppo... molto facilmente immedesimabile in questi... Cioè, è molto facile immedesimarsi in questi personaggi. Mo' arrivano, mi pare, crocodile e mihawk, ma vengono interrotti da... Eh, guarda qua. Che cazzo stiamo a parlare? Bellissimo. Bellissimo proprio. Comunque, dai, voto all'episodio. Insomma, presumo di sapere qual è il vostro voto. Io un bel 10 glielo trovo. Proprio niente, niente da dire. Vabbè, voi che voto gli dareste? Un 9,5, dai. Tanto già lo so. Sarebbe una cosa del genere. Bello, bello. Ma soprattutto, sapete cosa mi ha fatto venire voglia? Di vederlo in live, One Piece. Secondo me ci può stare, vederlo in live. Sì, tra... Poi abbiamo pure sei mesi. Abbiamo pure questa pausa di sei mesi che ci viene in aiuto come proprio fosse una cosa provvidenziale. Quindi se non lo facciamo adesso, non lo facciamo mai più. Quindi... Io lo farei.